Buonasera, mi chiamo Tommaso Rocca e anche sono sordo e ho fatto una vita veramente normale. E poi, grazie a mio amico e soprattutto, che mi hanno scoperto i primi mesi della mia curiosità e mi hanno aiutato moltissimo per tanti anni, per tante preparazioni, a primarie, a sentire, etc. Però non sono passati, diciamo, perché prima aveva gli apprecchi, diciamo, si feca qualità, diciamo. Grazie agli apprecchi, i neri, mi hanno aiutato tantissimo a sentire tanti tipi di suoni, anche i rumori, anche l'aria, il rumore della concesionata, il rumore delle camere, finalmente riesco a sentire tutti i tipi di rumore. Infatti, ha detto ciò benissimo, anzi, adesso è fatto molto più fatica a sentire tutti i rumori, perché finalmente sento i rumori diversi. Però, con il tempo, magari in futuro, potrei anche sentire ancora a mezzo. Magari, vogliamo sentire anche a dire, diciamo, in futuro. Adesso, la mia vita è generale con tre cose. Penso anche cinema, anche pubblicità, fate tantissime cose, come se fosse una persona normale, diciamo. Adesso, finiamo, adesso andiamo a mangiare qualcosa. Prendiamo qualcosa. Ancora un attimino. Ancora un attimino. Grazie. Grazie. Grazie.